ben ritrovati res pubblica sicilia chiama europa quest'oggi si apre con la prima parte che vede in studio l'assessore alle politiche sociali e non solo del comune di trapani l'assessore giuseppe virzi ciao assessore ben ritrovato come stai salve direttore bene grazie e un saluto a te ai telespettatori siamo oggi nella giornata che celebra le famiglie e anche la giornata dei parchi quindi diciamo due settori che ti vedono occupare appunto la il ruolo di assessore a trapani acqua ai quali ti devi insieme alle altre cose partiamo così ne approfittiamo anche per entrare nella cronaca dalla giornata dedicata ai parchi noi proprio in queste ore a trapani avete intitolato questa villa comunale a peppino impastato una scelta doverosa sentita e che però ha diversi risvolti sociali assessore sì allora la intanto l'intitolazione della villetta peppino impastato è stato diciamo il culmine dopo diciamo un lavoro che ha visto questa villetta che era da anni diciamo non era sistemata e che è stata riqualificata dal diciamo dagli uffici dal collega barbara e poi ecco diciamo la prosecuzione qual è stata è stata quella di capire in che modo anche renderla fruibile ai cittadini soprattutto di quella zona e non solo cercando anche di vedere quali potevano essere diciamo quelle che potevano possiamo dire le soluzioni tant'è vero insomma che c'è stata poi questa iniziativa di natale solidale che ha visto il coinvolgimento della l'azienda l'azienda un'azienda del territorio lo posso dire giusto il best che ci sentiamo di ringraziare che ha coinvolto diverse associazioni e ha lanciato questa iniziativa e noi siamo stati chiamati in causa per capire quali potevano essere le diciamo la destinazione diciamo di questa di questa iniziativa solidale e allora abbiamo indicato appunto la che lì in quella in quella villa si potessero si potessero installare appunto dei giochi ed è stato così perché grazie a questa iniziativa grazie a questo coinvolgimento e ai cittadini che hanno partecipato all'iniziativa c'è stata questa raccolta fondi che ha permesso la realizzazione di questi giochi inclusivi inoltre anche di una casetta che viene fruita dalle associazioni come una sorta di info point che ci permetterà anche di dare ma abbiamo superato il problema della guagliania della custodia della questo diciamo è ancora che poi fu uno dei principali motivi per cui sì 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 allora lì il collega ci sta lavorando perché si stanno realizzando le convenzioni noi ovviamente avremo il supporto anche delle associazioni che faranno questo tipo di servizio ma al stesso tempo cercheremo appunto di porre soluzioni appunto per la guagliania oltre questo c'è da dire anche che no che fate lo scherzetto che l'avete inaugurata avete fatto capire chissà che poi rimane sempre non è non è nostra intenzione è vero che l'abbiamo abbiamo dovuto inaugurarla in base anche alla disponibilità del fratello di peppino impastato giovanni impastato che poteva esserci in quella data e quindi noi abbiamo giustamente sfruttato anche quella questa data proprio perché c'era questa disponibilità da parte del fratello di peppino impastato e quindi adesso diciamo la villa è pronta e sicuramente a giorni verrà verrà aperta perché ci si sta lavorando ma anche ecco con il supporto sicuramente delle associazioni che faranno questo tipo di attività. Senti da una villa a un altro parco quello su via Salemi che finalmente è stato riscoperto dalla città di Trapani e sempre più sta piacendo ai trapanesi e non solo. In questi giorni c'è una iniziativa di coinvolgimento sociale diciamo così per renderlo sempre più interessante sempre più fruibile e anche protetto perché ho visto che avete sistemato le botole che c'erano. Sì diciamo che anche lì questo parco oggi è la giornata della famiglia e quindi questo parco io sinceramente questo cruccio ce l'avevo pure quando ero consigliere comunale che lì purtroppo andavo spesso a verificare le discariche che c'erano era un parco purtroppo che diciamo era obiettivo diciamo di discariche continue. Una volta riqualificato e lì anche un ringraziamento veramente a quanti ci hanno lavorato per aver diciamo riportato questo parco, aver riesumato e ridato alla comunità. Però è fondamentale ed è il motivo per cui anche è nata questa iniziativa delle famiglie al parco delle famiglie al parco che il motivo è stato quello di cerchiamo di vivere i luoghi che noi abbiamo perché dico sempre che un'amministrazione da sola non può diciamo l'amministrazione da sola può deve affrontare determinate e trovare delle soluzioni quello senz'altro però poi è importante che ci sia la collaborazione dei cittadini e la collaborazione delle delle associazioni ed è il motivo per cui è nata questa iniziativa proprio dedicata alle famiglie. Siamo partiti con una biciclettata se si può definire così da da piazza stazione per arrivare lì e fare delle attività ed è stato molto bello perché ha visto il coinvolgimento di tante associazioni che si mettevano a disposizione che giustamente anche davano un messaggio di dire noi ci siamo nel territorio. Cosa vogliamo fare di questo parchetto? Lì come come si è detto anche in qualche intervista anche precedente e lì diciamo si vuole si vuole pensare ad attrezzare questo parco a renderlo più fruibile a mettere ulteriori diciamo servizi sempre a favore della della cittadinanza però la cosa bella che 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 stiamo notando ed è quello che volevamo con la prima iniziativa delle famiglie a parco che adesso per esempio ci sarà una seconda iniziativa dedicata ai giovani voglio dire questo significa che c'è questa voglia di volere ecco vivere vivere il luogo e renderlo più fruibile disponibile e soprattutto migliorarlo. E' anche la dimostrazione che la città ha voglia di verde e di aree appunto fruibili e attrezzate possibilmente e quindi magari in questa direzione vanno trovate altre misure e altre soluzioni. Su questo ci si sta lavorando anche per rendere fruibili altre aree al verde c'è un progetto specifico proprio per questo che stanno curando gli uffici sta curando il collega e quindi io penso che ecco vedremo anche altre aree altre aree riqualificate e ridonate alla cittadinanza ma dobbiamo anche capire che ognuno deve fare la sua parte questo è fondamentale perché non possiamo girarci dall'altra parte se vediamo qualcuno che voglio dire sporca o per esempio noi abbiamo messo in questo parco proprio dei cestini voglio dire i cestini non possono diventare un punto per andare a buttare proprio i sacchetti della spazzatura i cestini hanno sono per le deiezioni canine o per diciamo la merendina magari dei bambini e quindi lì piccoli rifiuti. Lì dobbiamo darci una mano tutti dobbiamo darci perché a livello cioè io parlo soprattutto a livello sociale anche lì voglio parlare anche del centro storico dove dei cittadini vicolo sardo ci abbiamo sistemato pulito una via che è una via che è di congiungimento ma continuamente c'erano sfabriciti e molti buttavano diciamo di tutto e di più e allora vedo che c'è più attivismo da parte dei cittadini e questo è molto bello noi questa settimana abbiamo vissuto c'è stata la settimana della memoria ieri siamo stati alla commemorazione abbiamo vissuto le commemorazioni sia nel piazzale Falcone Borsellino che anche a piazza Francesca Morvillo ma anche lì la villetta dedicata a Peppino Impastato visto la partecipazione di tanti studenti e insegnanti che si mettevano in gioco e anche volevano lanciare un messaggio molto bello dire noi dobbiamo riuscire a insieme a poter cambiare ecco una mentalità errata una mentalità errata che purtroppo parte dal fatto che uno sporca dal fatto che uno posteggia in uno stallo dei disabili oppure da tante regole che purtroppo diciamo vengono vengono continuamente e vengono continuamente insomma è così infrante infrante senti hai già più volte menzionato le associazioni anche da questo punto di vista mi sembra di capire che cresce la sinergia proprio fa il mondo dell'associazionismo cittadino e l'istituzione comune di trago io personalmente ritengo che sia importante il confronto ultimamente c'è stata abbiamo costituito la consulta senza data la consulta delle associazioni che devo dire con molta franchezza non ha visto una grande partecipazione quando c'è stato il bando per però questo è un punto di partenza non mi ricordo sono 23 associazioni abbiamo istituito anche insediato la consulta per la pace magari qualcuno dice ma cosa sono queste sono degli organi che possono essere veramente da proposizione ma anche da aiuto nei confronti diciamo di della dell'amministrazione perché io ritengo sempre che il confronto il confronto sia importante ma anche per cercare di portare avanti quelle che possono essere delle delle linee comuni che possono solamente fare bene alla nostra comunità e io ci devo dire che ci tengo tanto al a questa a questi organi propositivi e consultivi e devo dire che diciamo in questi in quest'anno abbiamo fatto anche diversi incontri con diverse associazioni è nato anche un percorso grazie all'obbificio territoriale e al cesbo abbiamo fatto un percorso anche per dare una mano all'associazionismo locale per dire se avete perché sappiamo che c'è la nuova riforma quella del di enti del terzo settore e quindi molte associazioni magari hanno bisogno di un supporto anche formativo proprio per per dare seguito a quelli che sono gli obiettivi di una della della propria associazione e hanno bisogno anche di supporto per capire come muoversi anche a livello fiscale e a livello ecco burocratico e quindi abbiamo infatti terminato da poco il 10 maggio c'è stato l'ultimo incontro di questo percorso che devo dire è stato interessante ha convolto diverse associazioni quindi ringrazio veramente quanti hanno partecipato ma soprattutto ringrazio chi chi diciamo assieme all'amministrazione ha organizzato questo percorso quindi c'è questa voglia di mettersi insieme e di dare realmente una mano alla nostra comunità e se non si fa questo io penso che questa sia la cosa più bella di poter rendersi conto cosa significa veramente cittadinanza attiva cosa significa dare anche un contributo per far cercare di far funzionare meglio le cose senti il comune per le famiglie invece che sta facendo il comune per le famiglie intanto noi a breve abbiamo si insederà il centro per le famiglie centro per le famiglie che come sai diciamo abbiamo ormai abbiamo riqualificato l'ex mattatoio l'ex mattatoio che ci sono dei patiglioni che sono stati riqualificati lì andrà in questo diciamo in questo luogo ci saranno delle azioni volte al dei laboratori artigianali e anche per al centro famiglie il centro famiglie è diciamo verrà coordinato dal distretto dal distretto sociosanitario e prevederà tutte quelle azioni a favore delle famiglie ma anche di prevenzione e quindi con dei professionisti psicologi assistenti sociali ma prevederà anche delle azioni a favore dei 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 figli dei dei ragazzi e quindi noi stiamo lavorando anche molto bene con il centro affidi per esempio devo dire che le azioni veramente sono tante richieste di affido di affido sì ancora voglio dire purtroppo anche lì c'è una stiamo cercando anche di sensibilizzare sugli affidi e parlare di affido non è parlare di adozione molte volte si fa anche diciamo un po di confusione ma stiamo lavorando affinché insomma ci diciamo possiamo anche diciamo far crescere questa questa propensione diciamo all'affido che in questo caso consentirebbe ad un bambino ad una bambina un ragazzo una ragazza di potere di poter avere in quel momento particolare della della vita di avere di avere un supporto di avere dietro una famiglia che si prende cura cura di lei o di lui quindi stiamo lavorando anche per sensibilizzare questo aspetto come distretto stiamo lavorando anche per lo dico pure che sembra così scontato ma non lo è perché in questo momento si parla di dipendenze da crack però le dipendenze diciamo sono possiamo anche dire purtroppo sono tante gioco d'azzardo e tante altre cose ultimamente il comune di ieri ci ha organizzato pure un incontro proprio per io sono stato presente proprio per la prevenzione alla dipendenza del del crack noi c'è io in questi mesi eh come amministrazione abbiamo eh diciamo avuto una eh la possibilità di interfacciarci con il SERD per capire un pochettino come potevamo portare avanti delle azioni all'inizio eh si pensava a livello comunale ma poi abbiamo pensato dico eh non possiamo pensare al eh solamente al comunità perché le dipendenze convolgono tutta eh eh tutta la nostra comunità e quando parlo di comunità non parlo solamente di travani ma parlo estesa diciamo ai comuni anche eh limitrofi e allora stiamo pensando ehm abbiamo già avuto due incontri e ne avremo un altro proprio a giugno per costituire un tavolo eh già l'abbiamo già eh costituito però realmente sta prendendo forza anche eh perché abbiamo mandato anche l'invito alla prefettura che ha un gruppo di lavoro proprio specifico sulle dipendenze e abbiamo ehm vogliamo portare avanti una un percorso di formazione di prevenzione eh in un primo momento rivolto agli educatori e agli insegnanti infatti abbiamo abbiamo coinvolto anche il provveditore il provvediturato agli studi proprio perché riteniamo che eh bisogna eh lavorare soprattutto eh per cercare di eh eh arginare o di prevenire quelle situazioni però dove c'è quell'educatore quell'insegnante che ha che fare proprio in quel momento con un caso specifico e quindi sa come potersi muovere e questo percorso infatti eh sarà indirizzato proprio agli educatori agli insegnanti perché parliamo anche degli educatori delle parrocchie o gli educatori nei vari centri di aggregazione voglio dire lì eh è importante anche capire come muoversi e soprattutto quello che eh io noto ma ed è agli occhi di che ci sono realmente tante risorse però basterebbe che queste risorse umane si mettessero insieme per poter eh avviare diciamo un percorso che possa essere utile alla nostra comunità abbiamo comporto anche la diocesi eh perché sappiamo che molte famiglie purtroppo a causa delle dipendenze si indebitano e quindi c'è anche questo aspetto eh che non si rompono direttamente o si rompono direttamente quindi voglio dire stiamo lavorando ecco soprattutto sulla prevenzione perché non si può parlare solamente di emergenza o di trovare eh subito una soluzione perché c'è l'emergenza dobbiamo dobbiamo lavorare affinché non si non si arrivi all'emergenza. Senti a proposito di emergenza è un periodo in cui beh ormai anche a livello eh nazionale eh sta parlando purtroppo sempre più spesso ma serve per fare prevenzione è un periodo in cui fioccano le truffe agli anziani. Sì sì anche lì eh sì purtroppo sì perché ultimamente mi sono sentito con il comandante proprio della stazione quelli di di Trapani che ci ha sollecitato noi già abbiamo fatto eh proprio un abbiamo portato avanti un progetto contro le truffe agli anziani che ha avuto diciamo un buon riscontro coinvolgendo delle realtà parrocchiali e questo l'abbiamo avviato l'abbiamo fatto eh terminato a novembre del duemila e venti tre ma adesso partiremo con un altro progetto contro eh le truffe agli anziani eh proprio perché abbiamo avuto appunto un finanziamento eh diciamo è un finanziamento della prefettura e quindi eh partiremo con questo con questo progetto proprio di prevenzione perché purtroppo è vero e si sentono eh in giro che eh diciamo questi ci sono aumenti di truffe eh ai nostri ai nostri anziani e quindi lavoreremo in sinergia con eh i carabinieri che eh sicuramente e con anche eh dei professionisti per capire come meglio eh prevenire queste truffe e soprattutto dare delle indicazioni utili. Sicuramente coinvolgeremo i centri territoriali del 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 nostro comune perché sono quei centri dove appunto gli anziani fanno delle attività specifiche e quindi eh sono quei centri proprio dove dobbiamo cercare ecco di dare delle indicazioni e anche i centri territoriali dico abbiamo cambiato eh abbiamo sistemato eh cambiato il regolamento per i centri territoriali dei nostri anziani perché era un po' datato ehm e questo permetterà ulteriormente anche eh che all'interno delle decenni territoriali ci possano essere possano essere realizzate delle attività che non si rifanno solamente al ballo ma che possono diciamo estendersi ad altro perché è importante ecco far vivere eh ai nostri ai nostri anziani anche eh delle eh far toccare con mano magari quelle che possono essere quelle attività che possono anche essere di aiuto a loro stessi per poter ecco vivere meglio eh questa terza età. Parliamo di cantiere di servizio. Sì. Allora per quanto riguarda i cantiere di servizio eh devo dire che eh anche lì eh io ringrazio gli uffici perché in piena estate quest'anno eh abbiamo avuto anche questo eh questo traslogo eh come benzai noi eravamo eh ubicati in via libica e da lì poi si accelera diciamo nonostante che abbiamo avuto quel in quel periodo anche la carta di la famosa carta dedicata a te che molti chiedono e dico anche non è arrivato ancora il decreto da parte del del ministero quindi di questa carta ancora non abbiamo perché molti vedono il eh magari su internet che c'è la possibilità della carta dedicata a te così mi pare si chiama però ancora non abbiamo nessun decreto quindi eh io voglio tranquillizzare che quando avremo il decreto pubblicizzeremo tutto quello che c'è da pubblicizzare però ecco volevo dire questo che in piena estate tra tante cose eh anche questo trasferimento abbiamo avuto la possibilità di presentare eh di presentarci ai cantieri di servizio e devo dire che eh infatti i cantieri di servizio ci hanno permesso eh ci siamo stati selezionati siamo stati il secondo comune ad essere selezionati dopo 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 Palermo con eh un finanziamento di quattrocentocinquantatremila euro mi pare circa questi cantieri di servizio permetteranno a a a tante famiglie infatti in questo momento eh e ancora eh c'è con l'avviso c'è si può presentare la domanda mi pare che scade i primi di giugno se non sbaglio e e permetterà a a a secondo i requisiti eh previsti eh dal bando permetterà a a a a tante famiglie a tanti soggetti che hanno delle eh giustamente delle difficoltà economiche di potere eh accedere e eh diciamo giustamente ci saranno dei progetti di pubblica utilità che possono essere eh quelli del eh la piccola discervatura o la guardiania oppure ehm tanti altri eh tante altre azioni diciamo che eh e dietro appunto spletando questa questi lavori di pubblica utilità avranno la possibilità per tre mesi insomma di avere un contributo. Noi tra l'altro devo dire che mi sono dimenticato dire che eh siamo eh comunque ehm già da luglio ad agosto abbiamo fatto eh abbiamo dato la possibilità anche ad altri eh abbiamo abbiamo praticamente eh mandato avanti il i i altri altri cantieri cioè altre azioni simili eh proprio di pubblica utilità eh che poi sono terminati mi pare a a dicembre o a novembre se non sbaglio e quindi abbiamo dato la possibilità per tre mesi perché c'erano eh per quindici eh quindici sedici soggetti e quindi questa è un'altra opportunità eh io penso che eh non mi voglio sbilanciare ma eh stiamo eh una volta che arrivino arrivano le domande poi presenteremo i progetti eh che delle azioni alla regione e poi insomma eh settembre ottobre penso dovrebbero dovrebbero iniziare. Tutte queste azioni sono finalmente eh possene essere perché avete approvato o state finendo di approvare gli strumenti finanziari o anche prima era già possibile. Allora eh ci sono alcune azioni che purtroppo tu come ben sai noi in alcuni servizi purtroppo ci siamo ci siamo fermati però questa diciamo delle eh queste azioni tipo come. La mezza scolastica per esempio. Sì. Dico queste azioni come i cantieri di servizio sono tu eh tu ti presenti. Ti presenti e comunque cerchi di eh eh di sfruttare questa opportunità. Quindi sono dei finanziamenti ad hoc. Quindi non voglio dire. E poi ci sono delle azioni giustamente che erano legate eh questo progetto che partirà per esempio contro lo truffo agli anziani legati magari al al bilancio e tante azioni comunque noi le avremo appresto proprio in pieno regime proprio perché con l'approvazione diciamo del bilancio. Chiudiamo con la gradatoria per gli alloggi ehm di social housing al Borgo Umma ristrutturato, rimesso a nuovo, ritornato ad essere un piccolo gioiellino. Sì lì devo dire che eh anche lì c'è stato come ehm ehm come insomma si è visto abbiamo fatto una ehm una giornata molto bella coinvolgendo le scuole a novembre eh proprio per ecco eh diciamo eh dare un messaggio a quella comunità che finalmente questi questi luoghi erano diciamo una volta ristrutturati eh si ridavano alle famiglie però c'era eh il discorso diciamo dell'avviso da da espletare eh che per appunto diciamo definire le gradatorie dei dei soggetti beneficiari. Eh lì siamo eh diciamo ormai c'è c'è la gradatoria ci sono le gradatorie definitive eh i soggetti sono sedici che i beneficiari diciamo di questi alloggi tra l'altro io c'ho ecco eh quindi beneficiari social housing del Borgo Umma abbiamo quattro gradatorie la la numero uno eh per otto persone la numero due eh la numero e la numero quattro cioè ci sono diciamo diversi alloggi in base ai nuclei familiari che possono essere di uno uno barra due 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 membri e possono essere tre quattro o anche cinque e quindi la gradatoria diciamo è stata definita ed è diciamo pubblicata quindi soggetti penso ehm diciamo che possono eh ormai hanno hanno la possibilità insomma di. Dimmi lo ricordi come funziona? Sarà per sempre questa assegnazione? Sì questa assegnazione sì sarà diciamo sarà 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 definitiva tranne se diciamo una famiglia magari non ritiene di 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 andare oppure magari non non corrisponde poi ai requisiti insomma che che sono previsti. Va bene assessore Virzi vedo che dall'ultima volta che ci siamo sentiti e visti in trasmissione ad oggi un sacco di cose hai fatto. Stiamo cercando di lavorare io ringrazio veramente eh quanti perché come sai benissimo nelle pubbliche amministrazioni eh il problema del personale c'è noi con il bilancio avremo la possibilità pure di avere altri due di assumere altri due assistenti sociali eh a tempo indeterminato quindi eh e veramente nonostante questo devo dire che c'è eh ecco un lavoro dietro e si cerca di eh di portare avanti eh perché noi abbiamo un ruolo un ruolo fondamentale soprattutto eh parliamo di servizi alla persona e dobbiamo cercare ecco di eh riuscire ad essere bravi a a dare i supporti giusti molte volte magari eh le persone pensano che dall'oggi al domani magari le cose si facciano così ma non è non è proprio così e e tu per poter portare avanti comunque determinate cose devi avere anche gli strumenti e in questo momento per esempio c'è l'Adi che si stanno facendo i colloqui per l'assegno di inclusione perché c'era quella scadenza dei 120 giorni e stiamo veramente si sta lavorando per cercare di eh di non far perdere a nessuno ecco il il beneficio con tante difficoltà ma stiamo lavorando e e eh eh pensiamo insomma di riuscire a poter eh dare una mano a tutti ecco. Grazie. Adesso dopo di te lì ci sarà seduto Don Liborio Palmeri. Che gli vuoi dire? Che c'è? Intanto Don Liborio io eh lo devo ringraziare perché eh. Oggi la trasmissione dove ringrazio tutti. Sì lo devo ringraziare perché sta facendo un lavoro grandissimo anche di aggregazione eh con il Museo San Rocco. Quindi eh per noi questo è eh queste sono delle cose che fanno bene alla città. Perché noi giustamente i centri di aggregazione sono fondamentali. Anzi devo dire questo non l'ho detto ma noi faremo realizzeremo un centro di aggregazione proprio a San Domenico perché c'è stata una parte riqualificata eh proprio per il progetto di centro di aggregazione. Dove faremo delle attività per i ragazzi e quindi eh penso che a breve dovremmo partire pure con con queste azioni. E sono ehm sono queste delle azioni che ad una città, ad una comunità fanno solamente bene. Quando tu raggruppi giovani e cerchi il confronto, cerchi di portare avanti con loro delle azioni. Io penso che questo può essere solamente eh diciamo da eh a favore eh anche di no a favore a favore dell'amministrazione e di quello che perché dobbiamo essere tutti insieme a cercare di portare. Assolutamente sì. Grazie Assessore Giuseppe Virzi. Ci rivediamo, buon lavoro. Grazie. Grazie a te e grazie a degli spettatori. Adesso come avete sentito arriva Don Liborio Palmieri. Beh gli sono toccati pure i saluti dell'assessore Peppe Virzi. Avete capito che cravatta pescinde che ho tolto perché fa un po' più caldo rispetto a prima. Adesso in studio piacere di avere Don Liborio Palmieri. Ciao Don Liborio, è sempre bello averti a disposizione. Grazie. Sei una fonte inesauribile di allegria e di condivisione obiettivamente. Tanto grazie di questo invito e buonasera a tutti. Come stai? Eh sono un po' affaticato dal lavoro però è una fatica bellissima quella di lavorare e affaticarsi. Ci sono fatiche ben diverse quindi voglio continuare a stare così. Poi insomma per fortuna i frutti vengono mangiati insomma da sempre più persone se ci limitiamo se in questo momento ci limitiamo appunto al lavoro che hai grigiamente svolto per il Museo San Rocco obiettivamente una fatica ripagata poi dalla messe di persone che viene a visitare il San Rocco e soprattutto dei commenti positivi che poi ne derivano dalla visita. Che cosa hai combinato con il San Rocco Don Liborio? Intanto avere lo sguardo di alcuni che sono ai vertici diciamo così del mondo dell'arte sia nella chiesa sia anche nel mondo artistico non necessariamente ecclesiastico. Per noi qui a Trapani per me certamente è una grande soddisfazione. Proprio all'inizio di maggio abbiamo avuto il dottor Francesco Buranelli che attualmente è il presidente della commissione permanente per la tutela dei beni storico-artistici di tutta la Santa Sede. Quindi è un uomo che gira il mondo a conoscere tutte le esperienze culturali e i beni artistici e storici della chiesa. Il fatto che sia venuto qui a Trapani dopo vent'anni a riaprire lo spazio del palazzo del seminario ci ha riempito di soddisfazione perché vuol dire che ha accolto la portata di questa esperienza che sotto il cappello del Museo San Rocco è diventata un'esperienza molto più complessa, molto più articolata e soprattutto una novità rispetto al panorama e anche alle esperienze precedenti. Nel senso che qui a Trapani per la prima volta è una chiesa locale che si scommette su un progetto culturale e artistico. Normalmente perché dietro la mia figura ovviamente c'è una chiesa, io sono semplicemente un elemento di punta perché c'è sempre chi si deve fare avanti nelle cose. Perché nella storia, diciamo così soprattutto del Novecento, sono delle figure un po' isolate che prendono a cuore il rapporto con gli artisti oppure perché semplicemente per il loro ruolo, pensiamo a Paolo VI ovviamente essendo prima cardinale a Milano, poi Papa, le sue amicizie con gli artisti diventarono di fatto una collezione d'arte, il Carme che poi fu inaugurato nel 73 ma c'era tutto il suo lavoro con gli artisti soprattutto in Francia, lui conosceva gli ambienti colti della Francia di Alain Couturier e altri pensatori. Poi altre esperienze in Italia erano state fatte soprattutto però dai gesuiti, quindi come un progetto di una compagnia, quindi di un ordine religioso, oppure per esempio il cardinale Lercaro perché attirava con la sua personalità tanti artisti e oggi abbiamo la fondazione Lercaro a Bologna. Una cosa paragonabile alla nostra ma non del tutto si potrebbe dire quella di un piccolo centro delle langhe, Rodello, dove un prete, ecco negli anni 60, si chiamava Mario Battaglino, cominciò a radunare, ad accogliere degli artisti in questo paesino sperduto delle langhe, allora le langhe non erano le langhe del dolcetto di Alba o del Barolo e ottenne veramente grandi risultati al punto che oggi, devo dire che molto opportunamente il sindaco di Rodello ha riaperto le porte agli artisti, io vado ogni anno a fare lì un workshop con loro, è nato un museo, il museo di Edalo Montali, però anche lì era una parrocchia. Noi partiamo come un progetto invece della diocesi, è un progetto che poi comprende anche l'archivio, la biblioteca e come i veri progetti secondo me devono avere anche lunghi tempi, cioè ne siamo abituati nella nostra società, cioè il progetto, e lo deve aver finito dopo, è come la costruzione di una casa o purtroppo anche quella di una chiesa, prima le chiese si costruivano in cento anni, oggi un cantiere deve finire in tre anni. Ecco, io non amo questo tipo di progettualità rapida, veloce, sono un po' diesel, come... Sì, è un diesel che va veloce, però perché in poco tempo... Il diesel non ha magari lo scatto immediato, però può raggiungere anche un'alta velocità. Senti, tutto nasce dall'archivio diocesano, o no? Sì. Diciamo che sono tutti e tre, come dire, fratelli questi istituti culturali, perché in realtà siamo nati proprio all'inizio, paradossalmente proprio con l'arte contemporanea, perché la prima inaugurazione avvenne nel 2004, lì al Palazzo del Seminario, avvenne allora appunto pure Buranelli. Poi abbiamo inaugurato la biblioteca nel 2006 e poi lo spazio per i bambini nel 2009. Nel 2011 aprivamo l'archivio, però ecco il Mab, noi lo chiamiamo così, Museo, Archivio e Biblioteca, procedono in qualche modo sempre insieme. Ora, quest'ultimo passo è stato un ampliare, è proprio il Museo San Rocco, mettendo insieme le due esperienze, quella iniziale di vent'anni fa al Palazzo del Seminario, quella che poi è intervenuta dopo, dal 2013 in poi, al Centro Storico di Trapani. Ora queste due realtà si sono perfettamente cucite insieme e, diciamo così, benedette anche da pezzi grossi dell'arte contemporanea, perché sono venuti qui Rolando Bellini, Bruno Corà, personaggi che il mondo dell'arte conosce bene, sono i più grandi critici che abbiamo in questo momento in Italia, cioè Bruno Corà cura la fondazione Alberto Burri, per intenderci, a Città di Castello, ha conosciuto Carla Cardi, è stato amico dei più grandi artisti del Novecento italiano, ha curato le mostre di Cunellis, per intenderci, ed è venuto qui per Marco Papa, è venuto qui per la nostra esperienza e ha anche tanta voglia di tornare e questo per noi è chiaramente, lo dico per noi, non per me. Senti, qualcuno si aspetta da un sacerdote che ha, diciamo, la passione per l'arte, visto che appunto, come tu stesso dici, tutto nasce in ambito diocesano, ci si aspetterebbe, non so, le classiche, tra virgolette, bellissime raffigurazioni artistiche legate al mondo della Chiesa, invece no, Don Liborio avvia il Museo d'Arte Contemporanea. Sì, questo è il mio carattere un po' strano, effettivamente, anche ancora non sono riuscito, diciamo, a captare. E' bello male allora che hai questo carattere. Ha un carattere, diciamo, incomprensibile a me stesso. Sì, perché io vengo da un'esperienza in cui ho bisogno sempre di capire le cose, bene o male avendo fatto teologia, conoscendo le scritture, come dire, le opere di arte sacra riesco a decodificarle. Ma mi capitava di andare nei musei o visitare gallerie o mostre di arte contemporanea e di non capirne assolutamente nulla. E questo veramente mi rendeva molto nervoso, perché, dicevo, sicuramente, siccome sono tutte queste cose così, alla fine vedevo che c'erano degli elementi comuni, no? O sono sbagliati proprio tutti loro, oppure forse io non mi sono sintonizzato bene. Mi manca su questa cosa. E allora, per capire cosa devi fare, incontrare persone, perché se tu non incontri le persone che fanno quelle cose, non cogli il loro movimento. L'interpretazione autentica dell'autore, diciamo. L'interpretazione autentica, deve andare all'interpretazione autentica. Ed è qui che è nata la passione anche nell'incontro con gli artisti, conversazioni lunghissime, dialoghi, che hanno portato anche artisti importanti a Trapani. Cioè, e soprattutto, ecco, cosa ci abbiamo messo di nostro rispetto a quello che è il mondo dell'arte contemporanea? Basta entrare in un museo, no? Per dire, ma questo lo sapevo fare pure io, no? È la frase classica che si dice. Il fatto di aver introdotto, diciamo così, nel dialogo con gli artisti, alcuni elementi importanti della nostra visione del mondo, della nostra visione delle cose, e costringere in qualche modo anche gli artisti contemporanei a misurarsi su questo. Cioè, il mio assilo è quello di far mettere insieme sempre, da un punto di vista antropologico, diciamo così, l'uomo sapiens, l'uomo religiosus e l'uomo faber. E l'arte ha questa grande capacità di mettere insieme queste tre potenzialità dell'uomo. Cioè, l'uomo sapiens è quello che pensa, no? L'uomo religiosus è quello che cerca un senso all'esistenza ed è una costante antropologica. Cioè, c'è stata epoca ed essere umano, credente o non credente, di questo, di quella religione, che voglia, come dire, che pensa che esista Giove o non so che cosa, che non si ponga il problema, ma che senso ha che sono al mondo. Questo è l'uomo religiosus. Ma c'è anche l'uomo faber, l'uomo che costruisce, che usa le sue mani, no? Per realizzare delle cose. Ora, secondo me l'artista, in qualche modo, incarna queste tre realtà. Perché un vero artista deve pensare, deve dare un senso a quello che fa e si deve vedere questo senso soprattutto a lunga onda e poi deve avere una grande capacità di costruire quello che pensa. Ed è una cosa affascinante per me. Forse perché me ne manca un po' qualcosa delle tre. E quindi mi piace molto, ecco, vederlo realizzare e vederlo fare agli altri. Nel frattempo ti espandi come Museo d'Arte Contemporanea. Non intendevo, quello è mal comune mezzo gaudio. Infatti mi sono messo pure questo guottino per cercare di... Lo condividiamo. No, intendevo come museo appunto... Sì, sì. Perché ormai il Museo San Rocco... Come mambo? Museo? Museo, archivi e biblioteca e il progetto, diciamo, in generale. Poi il Museo San Rocco specificamente, che è una parte tra l'altro del Museo Diocesano, sono diverse articolazioni. Poi il Museo Diocesano c'è la parte storico-artistica, però c'è una bellissima mostra a Sant'Agostino e si pensa anche a un museo etno-antropologico. E questa sarebbe invece la sezione di Arte Contemporanea del Museo Diocesano, che da noi prende il nome di Museo San Rocco, perché questa è la sede, diciamo, centrale al centro storico e poi questo luogo meraviglioso appunto che nel tempo abbiamo restaurato. Ora, questo museo con la sezione di Arte Contemporanea si espande perché può accogliere anche tutto il patrimonio che si trova conservato al terzo piano del Palazzo del Seminario Vescovile, a Erice Casasanta, ed è una collezione permanente. E quindi abbiamo cifre pazzesche, cioè abbiamo 25 nazioni rappresentate, più di 300 opere, più di 200 artisti. Ovviamente tutto questo è avvenuto negli anni attraverso donazioni, attraverso anche eventi, mostre collettive, personali che si sono realizzate. E poi abbiamo inaugurato anche un quarto piano, un quarto piano dove c'è addirittura una nuova sala espositiva e temporanea, che abbiamo titolata Carla Cardi, e dove si trova attualmente una mostra di Marco Papa. E poi una sala per le conferenze, titolata Filippo Burgharello, un grande trapanese che invito a ricordare, uno storico. E poi ecco un laboratorio artistico, una stanza dedicata a Maria Pia Adamo, che è stata vice direttrice del nostro museo, dove per esempio i giovani, i ragazzi, le scuole potranno venire a fare esperienze, perché è bello quando facciamo le mostre con gli artisti, che gli artisti anche si dedichino ai ragazzi per intavolare con loro un dialogo e quindi magari portare avanti dei progetti, per cui magari possono nascere piccole mostre con loro, ma è sempre costruttivo anche dal punto di vista interiore, no? Per un giovane. Cioè hai inventato o stai promulgando la catechesi artistica, diciamo così? Beh, penso che da sempre la Chiesa l'ha fatto, se l'ha fatto con Caravaggio nel 600, nella modalità in cui poteva farlo Caravaggio, che era incompreso ai suoi tempi, oggi tutti ci vantiamo di conoscere Caravaggio, ma Caravaggio era ostico da comprendere, no? Tant'è che alcune sue opere furono rifiutate. Ecco, mi chiedo perché non dobbiamo farlo anche oggi, con i linguaggi che oggi l'uomo contemporaneo usa, che magari non sono quelli che anche all'interno della Chiesa conoscevamo o a cui eravamo abituati. Questo è uno sforzo quindi che dobbiamo fare anche noi, dico, noi preti, noi fedeli all'interno della Chiesa. Spesso c'è una sorta di distanza, di difficoltà, scetticismo. Io la capisco anche, perché poi quello che avevo io all'inizio, diciamo, ma questi che fanno? Poi ecco, dialogando le cose si comprendono meglio e io grazie a Dio ho avuto questa possibilità di incontrarle. Nel frattempo abbiamo come territorio ospitato diversi artisti stranieri, no? Che magari vogliono pure ritornare, mostre di un certo rispetto, però tu ci devi sottolineare una cosa, mi dicevi prima di registrare, ebbè noi non vogliamo fare concorrenza ai musei quelli veri di arte contemporanea, noi siamo una specie di laboratorio, che cosa c'è? Una fucina? Noi siamo un tra, siamo degli outsider, perché non possiamo pretendere, e non è neanche giusto, non abbiamo gli strumenti, ecco, per le grandi istituzioni artistiche anche del nostro paese o fuori dall'Italia, però possiamo dare un grosso contributo invece dal punto di vista, ecco, intanto del talent, cioè di conoscere talenti, conoscere giovani, accoglierli, e io questo comincerei a farlo proprio dai primi anni, dalle scuole superiori, e poi abbiamo la possibilità anche di comunicare tanti valori e idee artistiche che non sempre gli artisti possiedono. Cioè io mi accorgo che quando si confrontano, per esempio, con la tradizione cristiana di duemila anni, rimangono affascinati se tu riesci un po' a comunicare il valore e la forza di quei contenuti. E poi ricordiamoci, e ci sono anche degli aspetti antropologici, che magari un'istituzione come, non so, il Bambo, il Maxi, non sono tenuti a cogliere, ma se noi dobbiamo fare invece una mostra in un luogo come il San Rocco, che è anche un luogo di cult, eccetera, allora c'è bisogno di una serietà di impostazione che mette anche alla prova l'artista. Posso fare un esempio? Assolutamente sì. Ecco, anni fa mi stavo preparando la tesi di laurea e decisi di incontrare un artista che allora era proprio emergente, oggi è consacrato, è considerato uno degli artisti viventi più importanti, è un albanese che si chiama Adrian Pazzi, Paci, scritto. Allora andai al bar Elite di Milano, fissai un appuntamento con lui e ricordo in mezzo al chiasso di quel bar, mentre il bicchiere... Cioè ti sei mostro da Trapani proprio appositamente per andare a incontrare... Ah ok. Per andare a Milano, siamo incontrati e abbiamo iniziato una chiacchierata sul suo fare artistico, sulle sue mostre, eccetera. E ad un certo punto io gli ho chiesto ma tu com'è che hai cominciato? Mi devi dire da dove nasce veramente nel tuo cuore il desiderio di fare l'artista? E lì subito abbiamo toccato un argomento delicatissimo, perché il movente era praticamente il fatto che lui da bambino a sei anni aveva perduto il papà che era un grande artista emergente dell'Albania degli anni settanta, Ferdinand, e che era precipitato con degli amici, con la sua macchina dalle montagne di Scutari ed era morto. E lui aveva tutti questi disegni a carboncino, bellissimi tra l'altro, del papà, con cui la mamma lo faceva giocare praticamente a terra. Cioè lui è cresciuto praticamente vedendo queste immagini fatte da suo padre. Che bello, che bello già. Allora io ero veramente emozionato a sentire questo racconto, perché ad un certo punto gli ho detto, senti ma fammi vedere questi carboncini, questi disegni. E lui tira fuori il telefonino e c'erano i disegni Baba, i disegni di suo padre. E lì c'erano dei volti bellissimi. E mi è venuto spontaneo dire, ma tu l'hai fatta mai una mostra con tuo padre? Una bi personale con tuo padre? Tu hai appena superato l'età di tuo padre. Sarebbe bellissimo che mettesse a confronto, ora che anche tu sei un artista. E lì è stato un momento bellissimo, anche di emozione. È calato un grande silenzio in questa conversazione dove tutto era rumore, invece tra noi proprio silenzio. E lì io gli ho detto, guarda, se vuoi ho anche il posto dove fartela fare questa cosa. E lui ha fatto una mostra bellissima, Ferdinand, Adrian Pazzi, in cui ha messo a confronto alcuni suoi video, alcune sue opere in video, perché lui lavora soprattutto con i video, con i carboncini e i disegni di suo padre. Ne è venuta fuori una cosa per certi versi anche sconcertante. Il fatto cioè che lui nei video va a cercare i volti che suo padre, se guardiamo i video di Adrian Pazzi e i disegni di suo padre, sembra che lui sia andato a scovare quei minatori, quegli operai che il padre andava a disegnare. L'imprinting proprio. È impressionante. Ci sono addirittura delle immagini che si potrebbero benissimo sovrapporre. La cosa più bella è stata il fatto che lui ha detto, ma io questa mostra non la posso fare in altri luoghi, perché non la capirebbero. Lo show business, il mainstream dell'arte, non capirebbe questa mostra. Infatti lui l'ha fatta soltanto qui e non l'ha voluta fare in nessun altro posto se non a casa sua, a Scutari, dove ha aperto uno spazio per gli artisti in Albania, Art House, e io sono andato anche lì a trovarlo. È stata una cosa cosa mi trasmetti d'Oliborio con questi racconti, con la passione e l'amore che hai messo e continui a mettere in questa opera in divenire, che è il Museo d'Arte Contemporanea San Rocco, con le sue derivazioni presenti e future che ci saranno. Gli altri musei bellissimi, scegli tu uno qualsiasi, dal Louvre al Max appunto, al MoMA, fai tu. Sono dei templi della bellezza dell'arte, freddi però, cioè tu vai là, rispetti le regole, ti puoi avvicinare, c'è il cordone, il silenzio dove puoi parlare, ma freddezza, cioè il distacco tra l'arte e l'essere umano. Tu invece hai creato una fusione, dove ciò che emerge è proprio un sentimento di amore verso l'arte, ma verso gli artisti e degli artisti verso poi gli astanti, chi va a visitare. Ecco, l'idea dell'artista e poi si presta a fare il laboratorio mi fa pensare proprio a questo connubio. Il nodo è solo uno, io sono un prete, non sono, poi sono diventato, posso essere diventato, non so se lo sono veramente, però certamente ho studiato, sono uno storico dell'arte, ho appreso anche alcuni meccanismi della museologia, ovviamente, devi imparare alcune cose, altrimenti non le puoi portare avanti, una certa scientificità la devi avere, ovviamente, però il cuore, diciamo di tutto il discorso, fondamentalmente è il mio ministero, questo ci tengo a dirlo, perché qualcuno mi dice, ma che senso ha che tu fai il prete in questo modo? Ma io mi chiedo, ma che senso ha il modo anche di chiunque altro di fare quello che fa, se non va dietro a se stesso, a quello che è la sua aspirazione, il suo cuore? Io credo che conti la verità di noi stessi, cioè per me questo è una forma, un modo per evangelizzare, d'altra parte è facile fare, come dire, mostre con gli artisti morti del passato, non hanno niente da dire, mentre confrontarti con un artista di oggi, con le sue domande, anche dure nei confronti della fede, nei confronti della chiesa, questa è una scommessa importante e che mi mette in discussione, ma anche mi fa sentire vivo, parliamoci chiaro, perché alla fine la fede non può essere qualcosa di istantio e di stanco nella nostra vita, deve essere qualcosa che ti fa arrivare all'ultimo respiro della tua esistenza, contento di aver vissuto e consapevole che dopo quel respiro ce ne sarà un altro molto più felice, se non hai questo penso che la vita è veramente fabbita. L'arte tocca le corde della spiritualità, quindi è un modo assolutamente legittimo e bello per evangelizzare, intanto creare amore, farlo sentire. Poi l'evangelizzazione, mica io posso far venire la fede a qualcuno, cioè io non la faccio venire a nessuno la fede. Però se già attraverso lo sguardo e l'ammirazione di un'opera d'arte e il dialogo magari con l'artista che l'ha realizzata, chi sta guardando quell'opera, riesce a sentire dentro qualcosa, già questo è un modo per metterlo in contatto con l'altro, con il divino. Perché la fede è uno squarcio che si apre nel cuore delle persone, a volte ci sono delle difficoltà perché questo avvenga, ecco l'arte secondo me a questo potere, come altre cose, come incontrare una persona e innamorarsi, può avere pure questo potenziale ovviamente. Ma non ne facciamo mancare nessuno, più ce n'è meglio è. Tra l'altro in una società così arida e così stanca, così afflitta, così addolorata, penso che sarebbe bene anche parlare di queste cose. Ma sei soddisfatto delle visite al Museo San Rocco? Intanto non è un mio problema, nel senso che io non mi pongo il problema di quanti verranno, quanti non verranno. Ti posso dire, l'altra sera ho incontrato tre famiglie che venivano da una parrocchia, li ho fatti entrare dentro questa installazione della Divina Tenebra di Marco Papa, che quindi non è neanche una mostra tradizionale, quindi non si vedono dei quadri, si entra in uno spazio, fatto tutto di carta, e c'erano delle persone di una parrocchia del quartiere Sant'Alberto, il rione Palme, che sono venuti a fare un incontro con me al museo, e siamo entrati là dentro e ne siamo usciti diversi da come eravamo entrati. Quindi la qualità per me è importante, infatti noi facciamo quasi sempre visite guidate, cioè per noi ecco la visione del museo classica, come dicevi tu, che entri, vedi il quadro, lo dice anche Candischi nel suo libro, lo spirituale dell'arte, entri nel museo, e dice che carino, che bellino, e poi esce esattamente come sei entrato, perché in realtà dentro di te non è successo nulla. Ecco, secondo me un museo come il San Rocco, luoghi come il San Rocco invece devono far accadere qualcosa, almeno debbono provocare. Allora a me fa piacere per esempio accompagnare i ragazzi dal piano terra all'ultimo piano, oppure far entrare in questi installazioni. Diamo un appuntamento a chi ci sta seguendo, perché così come me penso che in tanti che ci stiamo seguendo hanno voglia di seguirti in questo percorso, diamo un appuntamento. Beh, gli appuntamenti noi intanto basta telefonare al numero del museo e al numero mio è meglio a volte fare, come dire, gli appuntamenti delle prenotazioni, in modo che ci possa essere io o qualcuno che possa guidare. Poi abbiamo gli orari, per esempio al seminario apriamo negli orari della biblioteca, in modo da garantire almeno quando la biblioteca è aperta anche l'apertura di quegli spazi che sono enormi, molto belli e questo avviene fondamentalmente il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19. Quindi chi vuole andare a vedere questi spazi trova la bibliotecaria, chiede, si fa aprire e viene condotto a visitare questi spazi. Nel tempo cercheremo anche di dare più informazioni, per quanto riguarda il San Rocco normalmente apriamo nei fine settimana, quindi venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 20, ma ora con l'estate, grazie ai volontari, perché ci tengo a dire che tutto questo avviene attraverso i volontari, non c'è gente pagata, quindi a volte qualcuno magari si arrabbia perché è successo qualcosa. Che tipo di volontari? Sono volontari che fanno un'esperienza al museo e rimangono lì attratti. Abbiamo persone che quest'estate sono fatti, che so, fino a mezzanotte, il sabato e la domenica, dalle 20 a mezzanotte a far entrare turisti, a far visitare, a guidare, perché sono volontari, come anche tutta la parte burocratica, pensiamo le pulizie, oppure anche il basto della lampadina, non posso pensare a tutto io, ovviamente, e ci sono dei volontari, alcuni pensionati, per esempio. Fino a quando si protrerà la mostra di Marco Papa? Eh, la mostra di Marco Papa abbiamo deciso di portarla un po' avanti perché siccome siamo all'interno del ventennale, ecco, dello spazio del seminario e del decennale del San Rocco, quindi questo spazio lo teniamo occupato dalla mostra di Marco Papa, quindi fino a novembre sarà possibile vederla, sì. Nel frattempo cercheremo di realizzare degli eventi che possano valorizzarla, farla conoscere meglio, far conoscere meglio quest'artista, apprezzato da Bruno Corà, da Rolando Bellini, come ho detto prima. Marco Papa, per i trapanesi, vi ricordo che magari in quel periodo eravamo tutti molto distratti e apprezzati altre cose. Pandemia, c'era il lockdown, Piazza Vittorio, venne realizzata una installazione, il Cristo crocefisso, se non ricordo male. Il Cristo nudo, bianco, che è innalzato a venti metri di altezza. Che non siamo andati a vedere perché non si potrebbe uscire, noi di Telesudo allora abbiamo fatto appunto le riprese, ma parliamo di questo artista, menziono questa perché... Tra l'altro quest'opera si trova al Museo San Rocco, quest'opera è visitabile, oggi fa parte proprio del percorso del San Rocco e probabilmente molti di noi, anche tanti trapanesi, allora non capirono questa installazione perché qualcuno diceva, perché noi siamo sempre ossessionati dall'idea del vedere, mentre l'arte contemporanea più che vedere è un accadere, un accadere con un significato. Marco Papa diceva che la gruosa rappresenta il lavoro, il lavoro è crocifisso in questo momento perché noi siamo tutti fermi. D'altra parte quando morì Cristo sulla croce, non è che tutti uscirono per andarla a vedere, quindi il senso pieno della crucifissione si rendeva proprio... C'è pure un altro svuoto, non serve per forza vederlo ma tu sai che c'è. Esatto. E poi sono un uomo religioso, come dobbiamo fare? Tu sei un uomo religioso, ce l'hai come giusto, come speranze, come qualcosa da approfondire ancora di più. A me dispiace però io ho un tempo limitato in questa trasmissione ma non solo devo venire a immergermi nel Museo San Rocco. Vediamo di darci degli appuntamenti cadenzati per raccontare meglio questo mondo bellissimo, anche alchemico se vogliamo, dove uno si può trasformare davvero, entri in una maniera e ne esci migliorato. Con piacere. E mi piace. Grazie Doliborio, un bellissimo viaggio, un'emozionante storie che toccano il cuore davvero e complimenti per il lavoro che sta, assieme ai volontari, che ha fatto bene a menzionare, che stai portando avanti per la città e per l'umanità, certamente. Grazie. Parliamo anche di questo al Respubblico, vedete non è solo politica, le solite chiacchiere, il solito bla bla. Poi arrivano momenti in cui grazie a umanità come quella di Doliborio Valmeri riusciamo a spaziare, a toccare anche dimensioni intangibili provando a comprenderle senza però riuscirci certamente. Grazie a tutti voi, questa è stata Respubblica Sicilia Chiama Europa.